Nei giorni scorsi si è tenuta a dischi alla cerimonia di premiazione dei vincitori della terza edizione del Premio Internazionale di Poesia, 8 milioni 2014, progetto culturale ideato da Bruno Mancini con la direzione artistica di Roberta Panizza. Tanti sono stati gli scrittori, gli artisti e i poeti premiati, tra cui la vincitrice del premio Liga Lapinska, scrittrice proveniente dalla Lettonia e il secondo classificato Antonio Scarfone. Bruno Mancini ci ha brevemente sintetizzato la serata di premiazione. Un premio che è stato portato avanti da Roberta Panizza e da me attraverso lunghe selezioni. I 20 poeti finalisti sono stati presentati nel volume Mare, Monti, Mare, che abbiamo pubblicato in 5.000 copie distribuite in lettura gratuita su tutto il naviglio della flotta Lauro nel Mediterraneo, quindi praticamente hanno avuto contatto con circa 4 milioni di persone. Liga è venuta appositamente dalla Lettonia per ritirare il suo premio. Noi la ringraziamo per questo, è stata molto gentile, ha affrontato un viaggio abbastanza lungo e faticoso. Liga Lapinska, colpita dalla bellezza naturalistica dell'isola d'Ischia, ha voluto ringraziare gli organizzatori del premio. Vorrei ringraziare a Bruno Mancini e a Roberta Panizza per le sue attività e quanto alla isola è davvero molto bella, non solo Mara ma tutta l'area è molto bella. e quindi sono sicura che porterò i ricordi più e più belli da questa isola e ritornerò.